POSSA ENTRARE? Ho sentito la versione di Eindal. Ora vorrei sentire la tua. Che è successo? Non era laggiù. Avevo torto. Beh, tutti noi sbagliamo, figliolo. Ma liberare Garm? È stato un grosso errore. Il caos si sta già diffondendo negli altri regni. Siamo sicuri ad Asgard, ma da altre parti. Vorrei tornare a casa ora. Va bene, se è quello che vuoi. Ero sincero quando ho detto che non eri mio prigioniero. La scelta è tua. Va a schiarirti le idee. So che tornerai. Prima che tu vada, rivolgo la maschera. Non è che non mi fidi di te, lo capisci? È per quelli che frequenti. Oh, e Ingrid? Ti prego, me ne devo andare. Loki. Quando deciderai che sarai pronto a continuare il nostro lavoro, Hugin ti attenderà nella tua vecchia casa. Hai sbagliato. Ma tu resti sempre il benvenuto qui. Oh, e saluta Mimir da parte mia. Non credevo che sia ritornato qui volentieri. Se vuoi rimanere qui, ti toccherà aspettare. Figurati. Schiaffa! Schiaffa! Meglio usare subito il passaggio mistico. Odino aveva ragione. Garm. Come ho potuto liberarlo? Ok, è giunto il momento di affrontarlo. Ora non si scappa. Ok. Ci sono quasi. Andrà tutto bene. Va tutto bene. No, no, no! Sei tu! Aspetta, sei tu! Ragazzo! Che semplice! Uccidi un po' di valore! E mio padre? Cerca un modo di raggiungerti! Mi dispiace, siamo sotto te! Continuerà finché non chiuderò lo squarcio del regno. Adreus, tienili lontano. Ripa. 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 Mi serve altro sapene. Andreus, mi hai chiede aiutare. Ti mostro come fai. Dimmi quando! Lassa rifà. Lassa rifà. Lassa rifà. Lassa rifà! Andreus! Padre! Balzati in piedi. Aiuta Freya. Li attirerò dalla mia parte. Lassa rifà! Lassa rifà! Cuidà! Pin fà! No! Non potete dire questo! Lassa! Ripa! Lassa! Ripa! Lassa! Ripa! Arrivano dietro di te! Lassa! Ripa! 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 È finita? Non grazie a te Dov'è Atreus? Atreus? È ritornato portandosi dietro a tutto questo Vuoi stare fermo? Te l'ho detto, sta bene Stai sanguinando? Basta piagnucolare Quale nome uso? Atreus Che cosa è successo? È tutta colpa mia Miguel Walker Sono ovunque Sono ovunque Non è colpa tua Invece sì C'era un lupo a El Era in catene E io l'ho liberato Credevo che se... Garm! Porca puttana, ragazzo Hai liberato Garm Garm? Chi ha liberato Garm? È una pazzia Non sarai stato tu, ragazzo Se il mastino di Hell è libero Distruggerà tutti i regni ammorsi Gli Hellwalker sono l'inizio Che pensavi? Sì, questo è un casino di considerevoli proporzioni Che cosa ti ha spinto a un tale misfatto? È stato Loki a farlo? Ora basta Lasciatelo stare Atreus ha commesso uno sbaglio A cui noi... Rimetiremo insieme Splendido Se non vi dispiace Io resterei qui Ne ho già avuto abbastanza di Elheim C'è un problema Non credo di riuscire a tornare a Elheim Forse lo scogliattolo, sì Devo parlarvi all'istante Intendo subito È una faccenda molto urgente Signori Chiedo Venia per il mio tono brusco Ma qualunque cosa sia avvenuta a Elheim È davvero inaccettabile Vi invito a rimediare alla situazione Senza ulteriori indugi Vi imploro Tornate a Elheim Ce ne andiamo E non fate cazzate Non mi fai... Ecco... La ramanzina No Sono... Felice Che tu stia bene Ok Wow Forse dovrei scappare più spesso Atreus Scherzo Scusa Allora che mi dici della nuova lancia? L'ha fatta Brock Da Drapner Che cos'è? Un anello Da dove viene? Non lo so Potevi chiederlo Ma non c'eri Atreus Forse sono spaventato È stato legato per tanto tempo Non possiamo farmi del male Ok? Le creature disperate Sono le più pericolose Lo so Su Dobbiamo attraversare Prima che apra Altri squarci del regno Riesce ad abbattere Quel pezzo di muro Con la trono balanza Sembra fragile Ti ha chiesto Odino Di liberarla? Eh? No Ma... Non lavori per lui Non è come pensi Qualsiasi cosa ti abbia promesso Non fidarti No Ma qualcosa che mi serve È... Difficile da spiegare Non è come pensi Dobbiamo andare lassù. Ma il ghiaccio ci intralcia. Me ne occupo io. Così non basta. Lo vedo. Cambiando prospettiva? Manca qualcosa. Il vento delle tue ali. Ma il vento delle tue. Lavori per Odino Hai detto che è difficile da spiegare Perché? Voglio che ti fidi di me Non ho il diritto di chiedertelo Ma puoi farlo Cosa ha che ti serve? Perché non puoi dirmelo? È complicato Ma dimmi di te Perché hai un'arma nuova? Pensavo non volessi alcuna guerra È così Ma... È complicato Tutti abbiamo dei segreti A volte è l'unico modo per proteggere chi amiamo E non preoccuparti, Odino Da lui non ci torno Questo mi fa piacere Uno squarcio del regno Garna si è dato da parte Forse so come Frey e ne ha chiuso uno Tieni lontani i nemici Va bene Dimmi quando sei pronto Credo che seguendo quegli al walker lassù Troveremo Garna Grazie a tutti 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 È tornato con me Non era necessario Sono tuo padre Ti aiuterò sempre Finché sarò in grado Beh... Anche a me fa piacere Dimmi... Che cosa facevi ad Asgard? Traducevo cose per Odino Ha trovato una maschera Alla quale è collegato un raggio E' tutto magico È tutto magico, è tutto un po' complicato Già, ma lì ho trovato persone della mia età Amici Almeno spero che lo siano ancora Non puoi fidarti di chi è fede di chi è fede di chi è fede di chi è fedele a Odino Il cancello aperto blocca l'ingranaggio Il cancello aperto blocca l'ingranaggio Le frecce sigillo sono inutili qui Un altro! A sinistra! Un altro! A sinistra! Eccolo! Ready! Un scusso apprezzato intero, Re Padre, è dietro di te! Avanti Dobbiamo fermarlo È tutta colpa mia Questa è tutta colpa mia Bersaglio a terra! In questa colonna c'è un incavo in cui puoi infilare la lancia, ma ci serve un angolo migliore. Spezza la guardia! 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 A TREUS Ho la decisione di andare ad Asgard? Aiutami a capire. Odino non vuole il Ragnarok. So che non è affidabile, ma mi serviva il suo aiuto. Anch'io voglio fermare il Ragnarok. Ti avrei aiutato io. Lo so, ma... Aspetta, ma è qui! Ok, ok! Ok, bravo! Va tutto bene. Calmati. Calmi. Fermo, vogliamo solo... Ok, bravo! Ok, bravo! Ok, bravo! Ok, bravo! Ok, bravo! Ah! 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 Forza, possiamo passare di qua. Se Odino vuole davvero evitare il Ragnarok, allora siamo d'accordo. Sì, e la lancia a che serve? Per proteggerti. Non puoi farlo con qualche altra arma. E questi che ci fanno qui? Sono morti! Oh, già! Ben detto! Oh! Un viandante. Quanto odio combatterli quando sono venuti. Li humisco! Aia! Tutto ok, sì? Tutto ok, sì! Lancia, lancia quel coso luminoso! Ma se non ti stai preparando per il Ragnarok, a che serve la lancia? Ecco, io ho parlato. Tocca a te. Non si... Siamo uguali. Io sono tuo padre. Stai evitando la domanda. Piazza! Piazza! sigillo sono inutili qui. Forse le mie frecce possono attaccarsi al legno lassù. Andiamo! Ci siamo. Promettimi che non lo ucciderai, ok? Non prometto nulla, ma cercherò di non ucciderlo. Andiamo! No! 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 Arrivo, a destra! Ok, io distraggo Garm. Tu congela le sue catene con l'ascia così non scappa. E legalo a qualcosa. No, troppo pericoloso. È un bel piano. Muoviamoci. Aspetta! Oh no! Oh no! La trasformazione. Odino ti ha insegnato a controllarla? No! Non ci affideremo ai suoi insegnamenti. D'ora in poi, si fa a modo mio. Non ci affideremo ai suoi insegnamenti. Non ci affideremo ai suoi insegnamenti. Perché non è funzionato? Non l'hai fatta apposta, vero? Chi è che non si fida ora? Scusa, ho esagerato. Pensavo avrebbe funzionato. Pazienza. Troveremo un modo. Sopra di te in arrivo! Le mie frecce la rallenteranno! Aucca! Padre, è dietro di te! Lo sento, è più avanti. Ora si fa a modo mio. Immagino voglia dire... Quello che pensi voglia dire. Ma possiamo provare a... Abbiamo il potere di limitare i danni causati dalla creatura. E lo osserviamo. Ok. Alla prossima Oh Non ho senso combattere Non può ragionare, Atreus Non ci lasci scelta Attenso a quelle catene La catena si è incastrata È scappato La prossima volta congelala La catena congelala Dai, prendila È a terra Sto andando, Attenso Ora capisco perché l'avevano legato Senza vietà Oh 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 È finita Speravo che andasse diversamente È colpa mia se era in libertà E se ora è morto? Talvolta non c'è altra scelta Lo so Possiamo andare a casa ora Atreus Lo so, chiudo il cuore Un'altra porta chiusa Le frecce sigillo sono inutili qui Hai qualche idea? Usiamo i sigilli per condurre il ghiaccio all'ingranaggio Un'altra porta Così andrà bene Forza Mentre eri via Ho cercato le Norn Mi hanno detto che Ad Asgard Eimdall voleva ucciderti Eimdall? Le Norn Pensavo non ci credessi Eimdall Grazie Un'altra porta Ma dove? Scappiamo! Forza! Dal buco per te! È tornato! Cosa facciamo? Io non lo so! Non lo sai! Non fermarti! Corri! Dove? Le scale! Fuori! Veloce! Trocca la strada! Tira la lancia sulla zampa! Salta! Salta! Acquiam! Se non lo troviamo, i morti continueranno a invadere i regni che infine collasseranno! Impara a placare la tua mente! Ho scoperto che con il caos vado meglio! Che altro hai scoperto? Che la fiducia reciproca ci fa bene! Sentite! Dov'è? Attenzione! Tutto ok? Sì! Ora lo vedo! Ce ne siamo! Mettito! Usa la lancia! Deve avere nei punti deboli! Attacca quel punto sul collo! Lo vedi? Ma quanto pensi di resistere? Beh! Bravo! Adesso basta! Sì, stai giù. L'ho capito! Come fa a tornare ogni volta? È la sua natura! Possiamo cambiare! Ora! È come se non avessi un'anima da uccidere! Aspettate! Forse posso fermarlo! Come? Aiutami a saltargli sulla schiena! Fridati! Davvero! Ci penso io! Facciamo a modo tuo! Aspettate, ho un dedurto! Auga! E dai, arrenditi! È il momento! Resta ordino! Preggio! Ora! Ti prego, ti prego, ti prego! Mi dispiace! Vecchia! Cosa è successo? Troviamolo! Forza! ¡Affonghi! Come! Come! Come!